Ehm, em, em, posso spiegarvi però dopo Innanzitutto buongiorno e fatevi spiegare perché di questo video Come avete letto oggi vi porto con me nella mia vita in un martedì mattina Tranquillissimo come al solito Quindi niente, io mi sono svegliata circa un'oretta fa Quindi se mi vedete ancora con la faccia del cuscino è questo il motivo Ma questi sono altri dettagli, sono le 10.24 Quindi mi sembrava doveroso iniziarlo adesso questo video Altrimenti lo iniziavamo direttamente dopo pranzo Non sarebbe stata una mattinata ma bensì un pomeriggio Comunque, come avete visto, sì, mi sono tagliate i capelli ieri sera per la precisione Perché praticamente erano diventati troppo lunghi E io non li ho mai avuti così tanto lunghi A parte quest'estate Però comunque mi iniziavano a dare fastidio Iniziavano a cadersene tanti capelli E quindi ho deciso di tagliarli Però questo non è l'argomento di questo video Bensì oggi vi porterò con me in un normalissimo martedì nella mia vita Come già detto prima Quindi direi di andarci a preparare Anche se in realtà già mi sono vestita Già ho fatto colazione Quindi ci rivediamo direttamente giù Ok è arrivato proprio il momento della voce narrante fuoricampo Come vedete sono uscita E faceva leggermente freschetto Quindi sono uscita con il giubbino Anche se in realtà era una bella giornata Per fortuna stamattina Perché sì, state vedendo questo video Nello stesso giorno in cui l'ho registrato E niente, come sapete Se mi seguite da un po' Il martedì nel mio quartiere Fanno comunque il consueto mercato Quindi io il martedì mattina Scendo con mia mamma Andiamo a fare un giro nel mercato Qualche volta compriamo qualcosa Qualche volta no E dopo stesso da lì Andiamo a fare la spesa Come vedete c'è un botto di gente Tutti con la mascherina Però c'è comunque un botto di gente Il problema principale è che oggi dovevamo andarci per forza Perché dovevamo comprare delle cose E quindi dovevamo per forza Quindi ci facciamo il nostro consueto giro E vi lascio qui tutte le varie clip Ah sì, comunque sì Stamattina con noi c'era anche mio nonno E niente Dopo aver fatto tutte le varie compere E avete visto me scocciata Sudata E non ce la facevo più Siamo andati anche dal panificio Per prendere il pane Per poi tornarci in a casa E niente Arriaccomi a casa ragazzi Come avete visto Questa è stata la mia mattinata Di solito il martedì mattina Vado nel mercato Come al solito Ma se mi seguitete un po' Già lo sapete E vado a fare un po' Di acquisti generali E un po' di spesa con mia mamma E perdo un po' di tempo Durante la mattinata Adesso ho appena finito di mangiare E sono le 2 e meno 20 Quindi penso che vado a editare questo video Perché deve uscire stasera E questo è stato il mio martedì Tra l'altro oggi avrei dovuto fare Un esame di francese Ma ieri la professoressa Ci ha mandato un'e-mail Dicendoci che non si sarebbe più fatta oggi E che ci avrebbe contattato lei Nei prossimi giorni E quindi non sappiamo ancora niente Ma vi pare normale Secondo voi Che all'università Uno si debba mettere a giocare Dietro i professori Manco fossimo alle superiori? A me no Vabbè Comunque fatto sta Che come vi ho detto Devo andare ad editare necessariamente questo video Quindi se questo video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un bel pollicione In su, commentare Iscrivervi al canale Se ancora l'hai fatto E vi ricordo che nei prossimi giorni Usciranno altri video Fino al 25 di dicembre Quindi stay tuned Bella